Buona finale e divertitevi su Sky Sport, è stato molto bello, grazie Valentina, grazie Riccardo e tutti i nostri colleghi che ci hanno aiutato da qui. Siamo sempre a fianco degli italiani, vivi le sfide dei tornei ATP e WTA, lo spettacolo dell'Enitto ATP Finals e WTA Finals e le Next Gen ATP Finals, Tifa Italia in Coppa Davis e sogna in grande a Wimbledon, Sky Sport Tennis, il tuo campo centrale. È bello avere quello che ti serve, quando ti serve. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo. Giorgio! Madua Ragnelli! Achille Lauro! Jake La Furia! Paola Iezzi! Pronti per un X Factor tutto nuovo? Sarà una grande festa della musica. X Factor, da settembre su Sky 1. Credem Euromobiliare Private Banking. Perché sei unico. Quando soffri non solo di diarrea, ma anche di gonfiore, gas e crampi, puoi provare Imodium Diarrea e Meteorismo per il trattamento dei sintomi. Imodium Diarrea e Meteorismo per trattare la diarrea associata a gonfiore, gas e crampi. Il domani è un viaggio dove tutto può accadere, dove la leggerezza è forza e la forza è memorabile, come i bei ricordi che verranno. Il domani è il luogo dove la tecnologia incontra ciò che conta e fa la differenza. Il domani è Proxis. Il domani è qui. Proxis by Sansonite. Apri le porte al magico mondo di Harry Potter con Kinder Joy. Per i tuoi ragazzi, un gusto unico e la nuova collezione Harry Potter Quidditch by Funko Pop. Solo in Kinder Joy. Segui gli europei di calcio con Gullbet Live. News, approfondimenti, statistiche e live score su tutti i match in programma. Scopri Gullbet Live. Dove sei ora? Tornetto. Un'estate da scartare insieme. E buona estate italiana a tutti. Ciao. 27, grazie. E allora io vado, Fede, vado a casa perché è finito il primo tempo e devo prendere un tè caldo. Dai Fabio, te ne inventi sempre una. Ma lo capisco, è più bello tornare a casa con Sky. E lo sarà ancora di più, perché fino al 22 luglio Sky Extra ti offre la visione di Ghostbusters Minaccia Glaciale. Gli acchiappafantasmi più famosi della Terra tornano per salvare il pianeta. Lo trovi nella sezione Sky Extra di Sky Prima Fila. Sky Extra, per noi, sei speciale. I migliori equipaggi d'Europa. Tutti contro tutti. Top match fin dal primo giorno. Classifica unica. Tutto per la conquista di un tesoro che si cera nei mari del calcio. La UEFA Champions League. E per la prima volta, 5 italiane. Più squadre, più calcio, più spettacolo. La nuova UEFA Champions League. Solo su Sky Sport. La più grande avventura del mondo. Il nuovo film di Saverio Costanzo. Finalmente l'alba. In prima visione domenica alle 21.15 su Sky Cinema 1 e On Demand. Nel cielo del nostro divertimento, una nuvola rossa appare ed è più luminosa del cielo. Per qualche secondo è più luminosa del sole. Pekko Pagliaia c'è. Grazie Pekko. Carlo Salcarazza vince Wimbledon, battuto Djokovic in 3-7. 6-2, 6-2, 7-6. Per lo spagnolo è il secondo il tiro con... Ciao!